Jasmine Carrisi ha in continua trasformazione, da qualche settimana si ha tinta i capelli ma il cambiamento più evidente a un altro. Qualche settimana fa Jasmine si ha tinta i capelli di rosso coprendo cosa il suo biondo che le metteva in luce il viso, non a questo pera quadrato il cambiamento più grande della ragazza. La figlia di Albano e Loredana Lecciso stupisce tutti con i suoi ultimi post, gli scatti sono pazzeschi e le pose piacciono a tutti. In questi giorni ha in vacanza negli Stati Uniti e nei giorni scorsi ha postato una foto in cui mette parzialmente in mostra il corpo, lo scatto lo ha fatto nel bagno della sua stanza e i commenti che sono piovuti sono di ogni tipo. Il cambiamento radicale di Jasmine Non solo cambio di colore dei capelli ma anche di stile. Nelle foto del suo profilo Instagram viene quasi sempre ritratta in posizioni semplici e naturali, con un bellissimo sorriso in volto, ma ultimamente sta cambiando un pa' quadrato il suo modo di fare. La foto che ha pubblicato dalla sua stanza d'hotel di New York ha provocato una bufera nei commenti, chi le fa i complimenti lasciandole dei cuoricini e chi invece arriva quasi ad insultarla. Lo scatto la ritrae in posa di profilo, con un outfit tutto nero formato da pantaloni e un top corto e per finire una felpa sulle spalle, il tutto completamente nero. In bella vista il braccio scoperto con i tatuaggi, non molto apprezzati dai follower, e le sue forme sinuose che sono invece apprezzatissime nei commenti. Proprio i suoi follower l'hanno riempita di complimenti, ciao creatura stupenda buona serata ai ai ai, ciao creatura stupenda buona serata ai ai ai, e ancora, bellissima sei splendida, tanti per a quadrato i messaggi dei follower che non hanno gradito, chi contesta la foto e chi invece contesta lei, troppo in posa. Troppi tatuaggi, non consumare tutti i soldoni di Papa Albano, mi raccomando. Leggi anche trattino maggiore Leggi anche trattino maggiore Oggi invece la giovane Jasmine ha pubblicato un video in cui si trucca e si prepara per uscire con una base musicale tutt'altro che americana ma davvero azzeccata per la situazione. Jasmine sta diventando una donna bellissima e la sua metamorfosi ha ben chiara a tutti coloro che la seguono, in Pia proprio i suoi follower apprezzano molto questo cambiamento.